Ciao amici di Mystery Gadget, siamo pronti a presentare un altro prodotto molto interessante, parlo del nuovo OnePlus 6 Allora la confezione che vedete qui, bella voluminosa e che potete vedere anche in tutto il suo splendore è quella di OnePlus 6, il prodotto che proprio in queste ore viene presentato ufficialmente a Londra per il mondo intero Vediamo immediatamente che cosa offre la confezione, intanto il telefono, poi torniamo su questo oggetto Dentro la confezione anche una cover in TPU che trovate all'interno della scatola e poi il dash charger Anche questo è uno dei dettagli che caratterizzano questo telefono con la possibilità nel giro di pochi minuti di ricarica di avere oltre il 50% di autonomia e poi abituale cura dei dettagli per la realizzazione dei cavi e dei connettori Vedete il cavo insomma con il richiamo del colore rosso con il connettore USB Type-C Questo dunque, quello che viene trovato nella scatola, che abbiamo detto, viene proposta a 519 euro nella sua versione base quella cioè con il telefono con 6 giga di RAM e con 64 giga di memoria Vediamo il telefono con il notch Forse per vedere meglio il notch è bene cambiare lo sfondo, applicare lo sfondo in modo tale che sia più evidente insomma quello che è il notch su un display comunque molto grande, un display che ci dà addirittura 6,2 pollici di diagonale con una razio che è 19 noni È un display di tipo AMOLED quindi con una qualità notevole, vorrei farvi proprio vedere il tipo di leggibilità del display Guardate io uso un angolo piuttosto ardito di ripresa, vedete anche con i riflessi, tutto sommato una buona leggibilità Sempre dando un occhio al telefono da vicino, la fotocamera posteriore vedete in posizione verticale spostata rispetto alla posizione angolare superiore Attenzione che la fotocamera doppia, 16 e 20 megapixel sono i due sensori, ha anche la stabilizzazione ottica dell'immagine Il sensore delle impronte digitali rimane in posizione posteriore, faccio notare però ecco un dettaglio che il sensore non è più con la classica forma proprio rotonda ma in questo caso una scelta secondo me esteticamente un po' più sofisticata, così come comunque gradevole è la posizione della fotocamera che sporge leggermente, questo è un dettaglio che insomma vorrei mostrare, vedete questa è la sporgenza della fotocamera però tutto sommato diciamo che non è assolutamente un dettaglio fastidioso Vi ricordo sempre ovviamente alcune cose importanti, Android 8.1 a bordo di questo telefono abbiamo detto 16 e 20 megapixel per la doppia fotocamera posteriore, 16 megapixel per la fotocamera anteriore che è in grado di girare filmati a 1080 pixel per quanto riguarda la fotocamera principale invece come detto da 16 e 20 megapixel si arriva anche a girare filmati in 4K a 60 frame al secondo poi con calma vedremo ovviamente nei prossimi giorni alcuni di questi dettagli software praticamente stock, lo vediamo nelle sue caratteristiche principali questo è il launcher tra l'altro ufficiale, vedete con uno swipe in questa direzione che permette di accedere a questa che diciamo è una sorta di hub di controllo del telefono con un movimento verso l'alto si accede invece alle applicazioni che si controllano con un movimento verticale un dettaglio importante riguarda ad esempio il pulsante allora il pulsantino che controlla essenzialmente l'accensione o lo spegnimento delle suonerie è stato spostato, è stato messo dal lato opposto questo permetterà di utilizzare delle cover che chiudono il telefono a libero e un dettaglio importante che vorrei farvi notare è che quando adesso spostate l'interruttore viene indicato quale modalità è stata attivata peraltro c'è un'altra cosa che vi faccio notare che è stato spostato l'ordine finalmente adesso si passa da suoneria a vibrazione e l'ultima invece è il silenzioso completo questa è una novità secondo me molto molto gradevole il telefono ha una fattezza secondo me molto ricercata vi faccio notare su questo lato il volume rocker con il cassettino poi per l'inserimento delle sim sulla parte posteriore vedete telefono con struttura molto pulita quest'altro lato con il pulsante per accendere e spegnere le suonerie e poi il pulsante di accensione del telefono c'è lo sblocco con il viso probabilmente avrete visto che guardate se io sblocco il telefono e guardo il telefono il telefono sia sbloccato senza che io abbia usato l'impronta digitale sul retro nella parte inferiore che ve lo faccio vedere da questa parte nella parte inferiore c'è il connettore usb type c l'attacco per le cuffie da 3 mm e mezzo e poi l'altoparlante per la riproduzione audio abbiamo detto dunque display amoled da 6,2 pollici la batteria è da 3300 mAh comunque con un'ottima autonomia dentro questo telefono a seconda del modello 6 o 8 giga di RAM 64 o 128 giga di memoria interna e il processore lo snapdragon 845 nei prossimi giorni ci troveremo insomma per un incontro approfondito di questo smartphone qui vedete il colore lucido del telefono ce ne sono tre di colori in arrivo c'è anche una versione con un nero opaco e poi ci sarà una versione limited edition bianca opaca con un effetto perlato secondo me meraviglioso semplicemente fantastico il prodotto andrà in vendita nei prossimi giorni esattamente la prossima settimana a Milano ci sarà un pop up store nel cuore della città in via Molino delle Armi e quindi la possibilità il 21 di maggio di mettere le mani su questo telefono andando allo spazio Velvet ci troviamo nei prossimi giorni per una recensione più completa se avete qualunque domanda scrivetela qui sotto se state guardando direttamente su YouTube e io ovviamente sarò in grado di rispondere a tutto quello che mi chiederete ricordatevi di iscrivere al canale di invitare tutta la vostra famiglia a farlo anche tutti i vostri parenti se non lo farete il vostro OnePlus vi cadrà dalle mani appena arrivato no sto scherzando ciao ci troviamo presto per la recensione buona giornata